Io ho lavorato con la collaborazione della Giulia Munnai insieme alla collega Lancillotti che non poteva essere presente, è stata un'esperienza fantastica, faticosa perché erano 33 ragazzi e penerne l'attenzione non è stato semplice però alla fine i risultati sono stati ottimi almeno come sensazione che ho avuto e il nostro fine era soprattutto quello di mettergli un po' dentro la passione civica di partecipare